Siamo con il dottor Di Mauro, presidente della federazione Hockey, un bilancio di questi primi due mesi di sport modello di vita? Devo dire che quando abbiamo iniziato il progetto eravamo un po' scelti sinceramente, però andando avanti, perché noi crediamo nel progetto, effettivamente siamo riusciti ad assolvere il compito che ci siamo proposti, abbiamo trovato entusiasmo innanzitutto nel nostro mondo, che chiaramente poi si è anche riportato nelle altre federazioni che sono i nostri partner in questo senso, quindi un successo inaspettato, devo dire che i valori che il modello di vita sta trasferendo agli associati nostri, a chi fa sport veramente, ha dato un percorso importante, lo vediamo nelle piazze, quando andiamo noi a promozionare questa attività, chiaramente legata anche ai stili di vita, vediamo che c'è un riscontro favorito da parte di chi partecipa all'iniziativa, quindi per noi l'iniziativa è un progetto che sta funzionando e ci sono dei buoni risultati.